Ciao a tutti, siamo Annalisa e Stefano e siamo venuti qui oggi perché ci siamo sposati il 24 luglio 2021 e siamo venuti a ritirare insieme di tutte le foto pubblicate, foto e video che Stefano Martelli ci ha fatto il giorno del nostro matrimonio. Ci siamo sposati alla chiesa di Gaggioro e poi abbiamo fatto un ricevimento abbastanza intimo e ristretto al piccolo bistro a Porto Venere. Le foto siamo andati a fare a Porto Venere. Abbiamo conosciuto Stefano per caso guardando su Facebook, c'era apparsa la pubblicità, si è sponsorizzata di un servizio gratuito prematrimoniale che ci aveva interessato un sacco e che abbiamo fatto ormai due anni fa. Ci ha fatto un po' di scatti, ci ha montato un video, poi ce l'ha consegnato e da lì ci ha colpito positivamente e l'abbiamo scelto definitivamente come fotografo per il nostro matrimonio. Allora ci ha incuriosito fin da subito il servizio ibrido perché comunque dà la possibilità di avere un video che racchiuda tutti i momenti migliori, più belli, speciali, particolari, quindi in movimento, dati poi in movimento con la musica in un video di qualche minuto e quindi dà la possibilità di rivivere tutto il giorno del matrimonio però in maniera comunque così diretta, efficace, emozionante. Dinamica, in maniera dinamica, non solo foto ma il video comunque merita, soprattutto avendoci un'unica persona e non magari 3-4 persone che ti girano intorno, è discreto, non te ne accorgi, è veramente questo servizio ibrido fatto in questa maniera penso che sia anche una novità nel panorama della fotografia professionistica è sicuramente un vantaggio dal punto di vista degli sposi perché non avendoci tutta una serie di persone quello che abbiamo potuto vedere fino adesso in maniera diretta abbiamo visto il video e comunque alcuni scatti che sono stati comunque fatti sono assolutamente meravigliosi quindi è una produzione stupenda. Il video è stupendo, ti lascia proprio, ti lascia molto molto emozionato e io proprio mi sono commossa. E ti fa rivivere. Siamo trovati benissimo fin da subito comunque un ragazzo giovane, ha un approccio molto semplice ci si relaziona in maniera molto tranquilla, quindi tramite anche solo Whatsapp un messaggio ci si mette d'accordo e poi noi abbiamo vissuto il problema Covid, quindi abbiamo vissuto la chiusura l'essere costretti a rimandare il matrimonio, però ci siamo comunque trovati da subito in accordo nel trovare una data disponibile per l'anno successivo, senza variazioni di prezzo C'è un'unica incontro, alcuni sono andati incontro, altre abbiamo avuto delle difficoltà però con lui in particolare è stato... Motivo per cui abbiamo anche revisionato completamente noi, è il nostro matrimonio però con Stefano ci siamo trovati benissimo fin da subito. Ringraziamo Stefano ancora per tutto il lavoro che ha fatto per noi e che siamo veramente felici e contenti Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao!